ma perchè non rispondi dico io rispondi ogni volta che ti chiedi papino? che figlio? ma insomma che fine hai fatto io ci sto chiamando a me di minuti tesoro e dai amore hai ragione ho fatto shopping e ho visto che hai fatto shopping e qua spendiamo sempre soldi sempre soldi sempre soldi a proposito hai finito i soldi hai finito i soldi per forza quindi sono andata nel tuo ufficio ma non c'eri per forza sto qua perché sto nell'ufficio e dalla cassa ho prelevato 500 euro e dalla cassa ho prelevato 500 euro ma io sono stato trasferito da un mese in un altro ufficio vai a vedere chi deve preso quei soldi qualche colleghi se li saranno piangiti